Le imprese del territorio della provincia di Rimini sono sempre più internazionalizzate. Lo rileva l'indagine annuale realizzata dall'Ufficio Internazionalizzazione di Confindustria Romagna con il contributo di Banca Carim. Lo studio ha coinvolto 210 aziende iscritte a Confindustria Romagna in sede di Rimini che rappresenta il 49,6% delle imprese associate. Di queste 210, 181, 12 in più rispetto all'anno scorso, hanno dichiarato di avere contatti con l'estero. Un dato in linea con la fotografia Istat. Nel primo semestre del 2016 l'export della provincia di Rimini è di 1 miliardo e 57 milioni di euro contro i circa 910 milioni del primo semestre dell'anno precedente. La crescita è del più 16,13% e posiziona Rimini al primo posto in regione per incremento dell'export. L'import invece cresce del più 7,85%, secondo posto in regione dopo Parma. Più della metà del campione, 51,9%, dichiara di svolgere parallelamente attività di import-export. Le aziende esclusivamente esportatrici corrispondono al 33,7% del campione, mentre si attestano al 14,4% del totale, le aziende solo importatrici. Rispetto all'anno scorso si osserva una diminuzione per la categoria di imprese, sia import che export. Un elevato numero di imprese è solo export e solo import.